Ciao a tutti, oggi andremo a fare un antizzanzare corpo alla lavanda fatto in casa. Ci servirà olio di neem, olio essenziale alla lavanda e gel di aloe vera. Allora procediamo. Inizio a mettere 4 cucchiai di olio di neem. Uno, due, tre e quattro. E ci siamo. Facciamo gocciolare bene, così non si spreca niente. Questo è un gel corpo antizzanzara. Ne bastano poche gocce. Ha un potere assorbente molto forte. L'olio di neem sappiamo che è un repellente che deriva dalla spremitura dei semi di una pianta indiana. Si acquista facilmente su internet, nei negozi bio, nelle erboristerie. Ora andiamo a versare 10 gocce di olio di lavanda. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ci siamo. Lo mettiamo via. Ora aggiungiamo un cucchiaio di gel di aloe vera. Così, in questo modo. Andiamo a mescolare il tutto. Bene, bene. È utile per le persone, ma anche per gli animali. Tiene lontane le zanzare e anche altri parassiti. Personalmente lo utilizzo tanto in casa, anche per il giardino. Se andate a vedere nella mia pagina, ho anche altre ricette che riguardano l'olio di neem. E' un ottimo alleato. E' un cicatrizzante, lenitivo, oltre che essere un repellente per le zanzare, ha tante altre qualità. Mescoliamo ancora bene. Ecco qui. Io ho utilizzato questo vasetto, ma se volete potete utilizzare quei dispenser in flaconcino, che ve ne danno una piccola dose, poco per volta. Ok. Ora è pronto. Non ci resta che provarlo. Io lo metto sulle mani. Il profumo dell'olio di neem è inizialmente molto forte, quindi sarete disgustate. Oserei dire davvero disgustati dall'aprire la boccetta e sentire l'odore di neem. Però vi posso assicurare che è fortemente assorbente, quindi non unge particolarmente e poi non si sente più. Va evaporando. L'olio essenziale di lavanda aiuta in questo caso a coprire l'odore di neem. Provatelo e fatemi sapere se anche per voi funziona. Un bacione grande a tutti. Buon spignato a tutti. Ciao!